Salve a tutti, in questo video vi parlerò dei processori. Mi è stato richiesto da un utente di parlare un po' più dettagliatamente dei processori, di cosa sono, quindi eccomi qua. Allora, innanzitutto parto, dico che ho fatto un tutorial che si chiama come scegliere il computer giusto, quindi guardatevi quello se avete intenzione di cambiare processore, eccetera. Adesso cominciamo, allora, il processore. Il processore non è altro che il cervello del computer, è un chip, è un componente, che dà la velocità, diciamo, al computer. Anche se poi ci sono la RAM e la scheda video che contribuiscono molto, ma in percentuale probabilmente più del 50% lo dà il processore. Quando sono nati i primi processori si parlava di 486, 386, 80, 386, diciamo che il primo Pentium Intel aveva più o meno una velocità di 133 MHz. Infatti, cominciamo subito. La prima cosa che c'è da sapere sui processori è che la velocità si misura in MHz o GHz. 1000 MHz sono 1 GHz. Quando appunto uscivano i primi Pentium, io avevo con Windows 95 il Pentium 133 MHz, che andava veloce per l'epoca. Poi sono usciti i 550, gli 800 MHz, l'800 era il migliore. Poi hanno cominciato a moltiplicarsi, fino a raggiungere una soglia di 3 GHz. Dopo i 3 GHz ci sono state delle limitazioni, ovvero la temperatura scaldava troppo, quindi non sono riusciti a sfondare quella soglia dei 3 GHz con un singolo processore. Ed ecco che qui sono nati i più processori insieme, quindi dual core, ovvero due processori insieme. Quindi dividere metà e metà il carico di lavoro riesce a far guadagnare una percentuale di velocità. Quindi dai dual core siamo passati ai quad, quindi 4 core, fino ad arrivare agli attuali i5 e i7. Che comunque, gli i5 e i7 in realtà sono sempre 4 processori, tranne alcuni i7 che sono 6 processori fisici. Comunque siamo rimasti più o meno a 4. Allora, qui ho la scheda tecnica di un i7 e cominciamo subito con le caratteristiche. Allora, prima di tutto c'è da dire che le due marche di processori sono Intel e OMD. Non starò a dire quale è meglio e quale è peggio perché le statistiche parlano chiaro. Attualmente il miglior processore al mondo come velocità è l'Intel Xeon E5 2690 con una velocità di 2,90 GHz. Vedete che anche se è 2,90 e non è per esempio 3,30, questo è comunque il processore più prestante. Questo per dirvi che non sono solo i GHz che contano un processore. L'MD è un processore per chi vuole risparmiare corrente, perché consuma meno, lavora a frequenze più basse ed è un ottimo processore. Comunque l'Intel riesce sempre a vincere alla fine come velocità, quindi se dovete lavorarci, giocarci, è sempre consigliato avere un'Intel, anche se costa di più. E' comunque più stabile, più affidabile, si rompono meno, eccetera. Quindi torniamo a noi. Abbiamo questa scheda tecnica di un Intel Core i7 da 999 dollari, quindi qualcosa di molto veloce attualmente. E vediamo un po'. Allora abbiamo detto la frequenza in clock, i GHz, quindi 3,33 con un massimo di 3,6 che raggiunge tramite una tecnologia chiamata Intel Turbo Boost. Poi abbiamo la cache, quindi una memoria di accesso veloce che è molto importante in un processore. Difficile anche lì da misurare e sapere qual è meglio e qual è peggio, in linea di massima più è alta la cache. E meglio è, qui abbiamo 12 MB di Intel Smart Cache. Poi ci sono delle sigle, a volte per esempio L1, L2, L3, sono tutte sigle tecnologiche per elencare i miglioramenti che ci sono stati nella tecnologia stessa. Poi, di importante, abbiamo queste tecnologie che stanno dentro il processore. Anche questo è difficile capire bene l'avanzamento, però se volete sfogliarvi un po', qui parla del Turbo Boost, è una tecnologia che incrementa un po' il processore. Poi abbiamo, per esempio, i processori nuovi dell'Intel chiamati Ivory Bridge, che è una tecnologia che riesce a far guadagnare circa l'8% in più di velocità a parità di clock. Quindi, uno stesso processore con una stessa clock, però Ivory Bridge, riesce a farvi guadagnare un 8%. Quindi, per dirvi che ci sono tantissime componenti che possono migliorare la velocità di un processore, conviene sempre andare, come ho detto nell'altro tutorial, in questo sito e guardarsi il benchmark, che tra l'altro è aggiornato ad oggi, quindi al giorno preciso, ogni giorno. E potete rendervi conto dei processori più veloci in commercio, quindi rendervi conto di cosa comprare, cosa è più veloce rispetto a un altro. Quindi, il processore ha una socket, letteralmente zoccolo, che sarebbe semplicemente il suo attacco alla scheda madre. Per esempio, un processore di questo tipo, vediamo se c'è scritta la socket, se no, ne dico una a caso, ok, qui non l'ha, eccola qua, LGA1366. Quindi, voi dovete comprarvi una scheda madre a LGA1366. Infatti, il principale motivo del cambiamento del computer è che la scheda madre non supporta più la socket dei processori avanzati. Inoltre, la scheda madre è importantissima perché si sposa con il processore e gli consente di lavorare al meglio, quindi processori moderni, schede madri moderni. Quindi, c'è moltissimo da dire, come potete vedere, quindi tante cose potrebbero essere soggettive. Adesso, i processori contengono anche una scheda video integrata che funziona benissimo poiché, essendo integrata, la velocità, quindi l'accesso condiviso è molto più veloce, anche se è sempre meglio consigliata una scheda video esterna poiché sono più veloci. E niente, quindi, credo di aver detto tutto quello che c'era da dire di importante sul processore. Come ho detto, il processore è il componente più importante del computer. La prima scelta, quella forse dove dovremmo spendere un po' di più insieme alla scheda madre e poi comprare tutto il resto. Di conseguenza, quindi, RAM molto importante per la velocità e non tanto RAM a livello di gigabyte, per esempio 4, 8, 12, ma la clock, quindi la velocità sempre della RAM, quindi una velocità di 1333 sarà migliore di una velocità di 800 MHz di una RAM, quindi anche lì abbiamo sempre la velocità di clock. E lo stesso nella scheda video. Anche la scheda video ha un processore misurato in clock, quindi anche la scheda video sarà più veloce se avrà una clock più veloce, appunto. Bene, questo è tutto quello che c'era da dire. Spero di essere stato chiaro. Ci vediamo alla prossima. Grazie.